E il pensiero ogni giorno va alla gravissima situazione in Israele e in Palestina. Sono vicino a tutti coloro che soffrano, palestinesi e israeliani. L'abbraccio in questo momento buio e prego tanto per loro. Le armi si fermino, non porteranno mai la pace e il conflitto non si allarghi. E basta, basta, fratelli, basta. A Gaza si soccorrano subito i feriti, si proteggono i civili, si facciano arrivare molti più aiuti umanitari a quella popolazione estremata. Si liberano gli ostaggi, tra i quali ci sono tanti anziani e bambini. Ogni essere umano, che sia cristiano, ebreo, musulmano, di qualsiasi popolo o religione, ogni essere umano è sacro, è prezioso agli occhi di Dio, ha diritto a vivere in pace. Non perdiamo la speranza, preghiamo, lavoriamo senza stancarci, perché il senso di umanità prevalga sulla durezza dei cuori.